E ringraziamo il Signore che possiamo ospitare qui, sia pure con qualche giorno di ritardo rispetto al previsto, Madre Maria Saveria Palmisano e Madre Maria Caterina, Suore Apostole di Gesù Crocifisso, ben arrivate e bentornate soprattutto dalla Terra Santa, in particolare da Betlemme. Grazie, grazie di cuore che ci avete accompagnato con la vostra vicinanza e preghiera. Voi siete tornate da una settimana, però in ritardo rispetto a quello che doveva essere il vostro programma. Stiamo per vedere alcune foto molto belle perché riguardano anche la capacità della nostra Italia di essere appunto presente laddove occorre andare vicino a chi sta soffrendo, a chi è in difficoltà. Vogliamo innanzitutto parlare proprio di questo grazie che voi avete voluto consegnare, anche con la preghiera naturalmente. Innanzitutto il mio grazie va al Signore e a San Michele Arcangelo, naturalmente a Padre Pio, perché siamo partite proprio nel giorno di San Michele Arcangelo e questo per me è stato un incoraggiamento perché mi sentivo e ci sentivamo accompagnate dall'Arcangelo Michele, quindi pensavamo tutto andrà bene. Ecco, e poi veramente è andato bene perché siamo tornati accompagnati dai militari umani. Ecco, lui che possiamo dire è il soldato di Dio, il generale del popolo santo e quindi questo è stato anche per noi un segno, anche questo. Ecco, questa foto la vorrei vedere a tutto schermo se la regia ci segue, proprio perché così ci racconta chi è lui, che cosa ha fatto per voi. Lui è l'ultimo di tutta la catena dei militari che ci hanno accompagnato, è lui l'autista che ci ha condotti dall'aeroporto militare di pratica di mare fino a Fiumicino dove avevamo detto di essere accompagnati insieme ad altri compagni di viaggio e quindi alla fine ci siamo salutati così. Noi abbiamo scelto appunto un racconto dal fondo, un po' come si fa in alcune sceneggiature particolari perché un po' la vostra storia naturalmente assomiglia a quelle vicende da raccontare, un po' anche perché siete andati a ringraziare San Pio, avete voluto prendervi il vostro tempo una volta tornate. Noi abbiamo anche un bellissimo scatto in cui appunto è commovente capire, non è uno scatto qualunque, può stare davanti alla tomba di Padre Pio quando appunto si è scampato un pericolo, non è una foto normale, tra virgolette. Che cosa avete detto? Non so se Suor Caterina vuole intervenire a Padre Pio in quel momento. Io come prima di alcuni viaggi che ho fatto, sempre prima di partire chiedevo Padre Pio accompagnami e fammi tornare. Quindi mi sentivo dire grazie papà. Sì, quando eravamo lì nel pericolo io ho detto la prima cosa che farò e faremo è andare a ringraziare San Michele e San Pio. Quindi tornando da Roma in Pullman abbiamo chiesto l'ora della messa a Monte Sant'Angelo che era alle 4. Esattamente noi siamo arrivati verso l'una, il tempo di prendere qualcosa e poi siamo andati a Monte Sant'Angelo. Quindi anche se frastornate, stanche, però siamo state contente di farlo subito. C'è anche un bello scatto che riguarda tutto un gruppo di persone con cui eravate. Da dove venivano? Che cosa vi siete raccontati? Allora, questi sono i nostri amici, divenuti tale perché abbiamo condiviso insieme questa avventura lì a Betlemme. Erano quando stavamo lì per sapere cosa fare perché non potevamo uscire assolutamente da Betlemme. Abbiamo chiamato il consolato diverse volte, abbiamo mandato i nostri passaporti e ci hanno detto di uscire dal checkpoint di Bezaur, l'unico aperto. Ripeto ancora una volta che siamo in Cisgiordania, pochi minuti fa abbiamo visto anche negli approfondimenti e nelle notizie della collega Paola Russo una grande cartina. Quindi sicuramente l'abbiamo chiarito più volte. Un territorio che appartiene all'autorità nazionale palestinese, un territorio molto più grande della striscia di Gaza, circa tra l'altro 140-150 chilometri se non vado errato, ma comunque un territorio che ha risentito appunto in maniera fortissima di quegli attacchi terribili di Hamas del 7 ottobre. Prego, c'è anche un video tra l'altro di Betlemme, voi dalla finestra. Sì, e quindi impossibilitate ad uscire perché eravamo già pronte per andare con la macchina delle nostre suore targata gialla israeliana, così incoraggiate anche, sostenute dal consolato italiano a Gerusalemme. Quando andavamo verso il checkpoint siamo stati bloccati già dai soldati israeliani con i fucili puntati. C'era un blocco, bloccato anche la strada con i massi di cemento. Questo il giorno 8? Il giorno 9 dovevamo partire. E quindi siamo dovuti tornare indietro andando lì con il timore perché avevo timore per le nostre suore che poi una volta accompagnandoci lì all'aeroporto di Ben Gurion dovevano tornare indietro. Avevo timore anche per loro. E quindi abbiamo pregato, pregavamo l'Itania a San Michele, la consacrazione a San Michele, tutto il percorso e poi indietro. In quel momento nel mio cuore ho detto San Michele come? Ti abbiamo invocato e adesso? Però se io sapessi che il nostro volo fosse cancellato io sarei più tranquilla che questa è la volontà di Dio. E di fatti neanche cinque minuti dopo ci ha chiamato una nostra consorella dall'Italia informandomi che il volo era cancellato dell'Arianair fino a Bari. E quindi siamo tornati. Ero ormai rassegnata ma anche disposta a rimanere con le nostre suore a Betlemme. Purtroppo però per la mia responsabilità nell'istituto le suore qui, madre torna, torna, ma come torniamo? Abbiamo anche chiamato nuovamente il Consolato. Il Consolato ci ha ripetuto, è andato in un altro checkpoint, difficile. Però ecco il gruppo, ecco adesso che all'improvviso, questa la ritengo una grazia, all'improvviso una suora che lavora con la nostra suora, Sor Maria Agnese che sta a Betlemme alla Cresce con i bambini, ha chiamato dicendo qui c'è un gruppo di 14 volontari italiani di Milano che sta tentando di ritornare in Italia ed è in collegamento con il Consolato. Allora io ho detto chiamo il Consolato e glielo dico che c'è anche questo gruppo, vogliamo unirci a loro. E così ci hanno incoraggiato, perfetto, benissimo, vi metto nell'elenco perché mi son detta andare da sole e diventa difficile, meglio con un gruppo. E questo gruppo di Milano a cui sono riconoscente anche strumenti della provvidenza di Dio si sono dati da fare perché conoscevano un'agenzia negli anni precedenti israeliana che li conduceva... Madre Maria Saveglia, adesso grazie davvero perché la testimonianza è di quelle che prendono il cuore. Adesso però vogliamo mostrare voi che pregate e in una maniera tutta speciale perché era l'ultima messa. Sì, siamo stati lì, era la messa in lingua italiana, eravamo già in poche, la guerra era già scoppiata. Eravate la basilica naturalmente della natura. Sì, e lì nella grotta poi ci hanno chiesto di leggere e siamo stati lì, abbiamo pregato intensamente. Sì. Molto bene, molto bene. Oggi lo ricordavamo in apertura la giornata nazionale del digiuno, della preghiera e dell'astinenza proprio per la pace e per la riconciliazione. Voi come passerete questa giornata? E innanzitutto come invitata inizialmente dal cardinale Pier Battista Pezzaballa e poi da tutta la chiesa italiana anche noi col digiuno che abbiamo già iniziato e con la preghiera. La preghiera intensa, l'adorazione in comunità e poi ci uniremo alla preghiera qui in San Giovanni Rotondo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie insieme a tutta la comunità di San Giovanni. Sor Maria Caterina, se vuole lanciare un pensiero alle vostre consorelle a Betlemme, quante sono? Che cosa fanno? Che devono continuare a stare con questo popolo che soffre, sia da una parte e dall'altra. Io ho ammirato il loro coraggio, la dedizione, quei bambini che ho potuto incontrare. Poi sono partita con un cuore straziato, veramente. Quindi noi le sosteniamo adesso da questa parte con la nostra preghiera. Noi voglio essere come un ripetitore, voglio lanciare un grido ai governanti, ai capi di Stato perché questo è un problema di tutti quanti, non è soltanto di Israele o dei palestinesi, è un problema di tutti, scusate, perché Gerusalemme appartiene a tutti, è la città santa per antonomasia, è la città della pace, ma questa pace non può esserci senza giustizia. E il Signore è questo, ce l'ha detto l'altro giorno nella liturgia delle ore, il profeta Geo, in questo luogo porrò la pace, però il Signore chiede la conversione dei cuori. Abbiamo un ultimo scatto bellissimo che ci fa pensare al Natale, ci fa correre col pensiero lì, del resto noi ci eravamo messaggiate proprio perché a San Girolamo, a Betlemme, c'è questa cosa particolare per cui si anticipa in qualche modo Greccio. Sì, accanto adiacente alla grotta di Gesù Bambino c'è la grotta di San Girolamo e noi ci siamo trovati proprio in quel giorno di San Girolamo a partecipare alla Santa Messa nella sua grotta e poi questo luogo è Bezzauri, il campo dei pastori. Bellissima immagine, io direi di chiudere con questa se sei d'accordo. Assolutamente sì, noi vi ringraziamo per essere state con noi stamattina, per averci regalato la vostra testimonianza, il vostro messaggio di pace e invitiamo tutti i nostri telespettatori ad unirsi nella preghiera che voi oggi farete appunto per la pace e per la riconciliazione. Quindi vi diamo un arrivederci perché la vostra presenza qui è sempre gradita. A presto. Grazie, grazie di cuore a voi. Linea alla regia.